è partita la prova per la categoria ma se ora ci veniva nei 3 pari a 17 giri tantissimi dell'impianto sportivo di paderno data sono in gara riportiamo razzamento, scuola mattina principalmente il 27 i vanni di annendere per un coppizzano sull'aziano tra i filipi e tesiosti, la di là di Andrea della di Marica, Caudo Lucio Paolo e Tandon Andrea la massa stimale dei 5.000 inocidi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.